Siamo all'ottava edizione della Festa del Delfino. Grazie a Delfis negli anni si sono ottenuti dei grandi risultati. Katia, quando si parlava di delfini un po' di anni fa sembrava qualcosa di lontano. Oggi è una realtà, è una realtà l'area marina protetta Regno di Nettuno e ci rendiamo conto oggi della grande opportunità anche turistica che abbiamo, avendo questa specialità nel nostro mare, la Casa dei Delfini. Una festa che però voi fate affinché i più piccoli possano avvicinarsi bene al mare. Un'ottava edizione ricca di momenti, raccontaceli. Allora abbiamo aperto con tutta i raci il sindaco di Laccameno che ci è stata sempre vicina con tutta l'amministrazione. Come tu ben saprai ci hanno dato uno spazio al museo di Villa Arbusto per una sezione cetaci. E poi abbiamo fatto un percorso didattico sul mondo dei cetacei a cura della dottoressa Barbara Mussi. E poi c'è stata la proiezione di questo bellissimo film che l'anno scorso Rai 3 ci ha fatto con Davide De Michelis nelle scuole, con i bambini sulla spiaggia a dare le borse ecologiche. È stato molto istruttivo. Poi ci sono stati dei bambini delle elementari che hanno musicato la fiaba che la signora Sachs dedicò ai bambini di Ischia, un messaggio d'amore. E adesso faremo una donazione. Abbiamo voluto dedicare un capodoglio a Domenico. E' inutile che vi dico il cognome perché avete capito tutti di quale Domenico si tratta. Unico e solo. Il grande. Doneremo questo simbolico capodoglio allo staff del Golfo, che lo adotterà e ne monitorerà tutti i vari percorsi insieme alla nostra associazione, per poi divulgarla attraverso le pagine del giornale, attraverso Tele Ischia e far sapere a tutti che nel nostro mare ci sono tanti capodogli e tanti delfini. E speriamo che anche le autorità tutte capiscano questo momento importantissimo per l'isola di Ischia. Perché è importante parlare ai più piccoli e far capire l'originità del nostro mare? Sai Katia che ho scoperto che addirittura molte persone di Ischia non sanno che ci sono i delfini o magari non l'hanno mai incontrati. Sì è vero, molti non lo sanno e quest'anno poi abbiamo avuto anche un'altra opportunità. A parte il fatto che i bambini sono molto più attenti e sanno molto più di noi grandi, sanno recepire meglio le necessità del mare, della natura. Abbiamo avuto anche un dono bellissimo da Bruno Mancini che ci ha dedicato questo volume di Ischia un'isola d'amore, la dedicata a Delfis e a tutti i nostri sponsor usando le mie fotografie e delle poesie bellissime di autori italiani. Allora Katia noi ti lasciamo perché tra qualche istante c'è questa consegna. Stiamo aspettando Rita di Meglio per fare questa consegna che sarà sicuramente commovente. Poi abbiamo la presidente della FIDAPA che consegnerà il certificato al Golfo. Allora noi ci allontaniamo e andiamo a vedere che cosa accade tra qualche istante.